signori siamo arrivati all'ultima puntata ne parliamo dopo la sigla ciao a tutti e bentornati nella mia stanza allora ho appena finito di vedere l'ottavo episodio di willow allora che cosa vi devo dire finalmente 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 un episodio fantasy come dio comanda a finalmente vide o finalmente un episodio come dio comanda sette puntate di queste elucubrazioni mentali eccetera eccetera però stavolta all'ottavo episodio ci hanno finalmente almeno a me mi hanno veramente convinto e veramente esaltato ci sono state tre scivoloni che mi hanno un po però ragazzi finalmente finalmente siamo arrivati in un punto veramente bello e ora ne parliamo attentamente allora si comincia esattamente da dove eravamo arrivati quindi e loro e kit sono andati nella città e memory li hanno trovato l'inutile er che tuttora dimostra di essere totalmente inutile e lì c'è una parte di girl power perché dobbiamo vederci questo girl power tutte le volte e c'è il la conversazione fra la magera ed erc e kit e l'ora e io ho temuto a un certo punto che tutto che tutto si riducesse a un dialogo fra loro e alla al discorso della scelta bene o meno male è sempre quella alla base di tutto quindi quando ho visto che c'era quella la parte lì ho detto mamma mia mamma mia speriamo speriamo di no e invece e invece è vero che il worm prova a a corrompere kit e dell'ora ma perché loro due per il semplice fatto che sono sono le uniche persone in una c'è il sangue di mad martigan e quindi la magera lo brama e l'altra è l'ora dana quindi è necessario che loro due siano le prime a cadere e effettivamente c'è la parte di loro che entrano per un attimo nel wirmo che il worm cerca di entrare dentro di loro e fa vedere sarsha che parla con kit e dice che adesso ha capito che bla 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 potrà fare la regina come vuole senza poterle senza obbligarla erc l'inutile che parla con elora dicendo possiamo tornare indietro a dove tutto è cominciato sposarci e dimenticarci tutto alle spalle ed è il classico tentativo di corruzione del del male perché lo sappiamo che il male non può agire se non riesce a corrompere il bene tramite l'inganno tramite la menzogna eccetera 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 nel frattempo i nostri eroi rimasti compiono anche loro il balzo della fede e tuffandosi dal mare in memore dal mare infranto giungono fino alla città immemore i primi ad arrivare sono jade il principe grador che si sta rivelando a sorpresa uno dei personaggi migliori perché ha imparato la magia per conto proprio prendendo appunti quindi lo stimo tantissimo e quello gli dice a un certo punto che è sulla strada per diventare un grande stregone eccetera eccetera poi dopo vanno anche borman e willow quando arrivano vedono che ci sono i flagelli eccetera eccetera una parte che secondo me la potete tranquillamente si può tutto sommato schippare si può tutto sommato schippare io l'ho vista 1 e 25 quella parte lì anche perché quando ho sentito la battuta di borman ragazzi ci rimango di sasso prima di essere pietrificato mi era venuta voglia di speggere mi era venuta voglia di chiudere disney plus e di disdire l'abbonamento devo essere sincero quindi una delusione immane però alla fine kit rifiuta di cedere alla corruzione e viene pietrificata anche lei e la ora invece resiste arrivano al momento del matrimonio lei decide di non sposare l'inutile e a quel punto con l'entrata in scena di un willow e anche lì grazie perché finalmente il nostro caro stregone comincia veramente a fare magie come dio comanda e parte con una bella un bel dissolvi magie cioè fa tutto quello che si chiede fa un mago un bel di soli magie per far cadere le illusioni fulmine magico o qualcosa del genere per fare pulizia dei nemici e comincia lo scontro lo scontro che vede i nostri contro flagelli e contro l'inutile e la la nostra e l'ora contro la megera c'è un appunto io non so se è computer grafica tutta la parte del boschetto ma a me ha dato un senso di anni 80 veramente bello veramente bello e veramente piacevole non lo so se era computer grafica o era veramente un teatro di posa allestito in puro stile anni 80 ma mi è piaciuto tantissimo e si sente la voce di mad martigan che invita kate kit a resiste dicendo che lei sarà lo scudo e la spada di elora ed è una cosa molto bella il fatto che se voi andate a vedere fra i doppiatori fra le voci originali la voce di mad martigan è di jamie o james qualcosa del genere killmer qui non so se è il figlio quindi hanno cercato qualcuno che avesse lo stesso timbro di voce del povero del povero val killmer questo mi mi è piaciuto la parte del combattimento fra la megera e e l'ora è un po henry potter un po tanto sembrava di vedere silente e voldemort nella al ministero della magia veramente una cosa noiosa cioè io veramente temevo che a un certo punto arrivasse l'ex per gli armi temevo questo però tutto sommato la megera si mostra per quel che è un mostro una vecchia strega veramente bello la seconda il secondo scivolone è willow che in puro stile obi wan kenobi parla nella mente di elora spiegandole come fare ad affrontare alla fine ad affrontare la megera ecco lì veramente a un certo punto si è visto come la disney ci deve buttare dentro star wars perché dice l'ho pagato e qui star wars l'ha fatto e abbiamo avuto una scena degna di obi wan kenobi che diceva sono lì nella tua testa sciocchina quando ha detto sciocchina vabbè tutto sommato ha detto sciocchina vabbè ed è l'ora riesce a sconfiggere la megera la megera trasferisce la sua essenza nell'inutile in erc e erc diventa praticamente un megero e vuol cominciare a combattere lì c'è l'altro scivolone la lux viene messa kit perché finalmente hanno capito che se un oggetto magico e del padre di bad martica nella usata mad martica è chiaro che su borman non può funzionare quindi va data a qualcuno nelle cui vene scorre il sangue di mad martica o scorre il sangue di quello che deve difendere e l'ora e chi ci può essere a difendere l'ora se non kit infatti quando gliela mettono io temevo a un certo punto partisse la musica degli sdc e che lei gli spuntasse il pizzetto perché a un certo punto mi sembra di assistere alla vestizione di tony stark in iron man sì la vestizione di tony stark in a rom e anche lì la disney o o il marvel cinematic universe questo va fatto fruttare pam 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 e poi una scena molto molto bella tutto sommato è il greater che si sacrifica per affrontare per affrontare la magera e da tempo a e l'ora di prepararsi a combattere quindi greater veramente risulta uno dei personaggi il personaggio migliore migliore anche di borman migliore anche di borman correggetemi qui sotto nei commenti ma secondo me è migliore anche di di borman la reputo questo quindi c'è alla fine una parte di bontà perché kit in tutti i modi non riesce kit da e l'ora dav non riescono a uccidere erc perché è l'amato ed è il fratello effettivamente c'è una parte che ci può stare tantissimamente che cercano grazie sempre al grande stregone willow di salvare la l'anima di erc la serie si conclude così con loro con il solo morto greater e loro che si preparano a tornare a atti raslin c'è un attimo di buio e vediamo greater che si sveglia in una piana dove c'è una battaglia dove c'è stata una battaglia una tizia che sarà molto ovviamente la misera che assomiglia vagamente ai loro con i capelli tagliati vagamente e gli dice che tra poco ci sarà una guerra tra poco ci sarà una guerra e che lei ha scelto lui come prima aveva scelto l'inutile erc ha scelto lui per regnare al suo fianco e lì finalmente per la gioia di tutti noi nerdoni del 1900 che hanno visto il film il 1988 si vede le borsi si vede le borsi signori evviva l'enorme drago a due teste nello sfondo si vede sono veramente contento meno contento quando chiudono l'ultimo il volume del libro e c'è scritto volume 1 e accanto c'è volume 2 e volume 3 quindi vuol dire che ci dovremmo sussinare altre 16 puntate con la seconda stagione e la terza e ce le sussideremo qui sul canale allora tutto sommato io devo dire alcun tranne alcuni scivoloni tranne a una mestissima operazione nostalgia will è una serie leggera molto meno seria prendetelo con le dovute mo con le dovute pinze molto meno seria di house of dragon e gli anelli del potere però tutto sommato si fa vedere tutto sommato si può vedere sono otto puntate da una 50 60 minuti luna quindi tranne alcuni io la quarta neck mar la mi è piaciuto un sacco la se la sesta con il dungeon e troll idem e l'ottava anche quindi tutto sommato io devo dire che l'ho apprezzata è chiaro che non griderò al miracolo però la seconda stagione me la guarderò perché merita perché diamogli un'altra possibilità allora signori questa è l'ultima puntata di willow da mercoledì prossimo saranno ricaricate le live di twitch con una settimana di ritardo per permettere poi a chi vuol vedere il mercoledì di non restare indietro insomma il canale è in evoluzione andate anche sulla piattaforma viola a iscrivervi ringrazio gli abbonati ringrazio gli iscritti mettete like al video condividete facciamo un bel commento perché willow visto che ha sollevato molte discussioni in chat nei commenti e noi ci vediamo quindi se lo vedete oggi che è mercoledì stasera alle 9 e mezzo sulla viola per la prima la puntata zero della campagna di mage la vipera rossa ciao e alla prossima